A questo punto io darei la parola a Grazia e le chiederei quanto tempo ti ha impegnato questo lavoro, per quanto tempo hai lavorato a questa ricerca? Francesco fa questa domanda perché conosce la risposta. Ci sono voluti un pochino di anni e Francesco fa questa domanda perché mi ha vista nell'ultima fase del libro assiduamente concentrata su questo lavoro, per cui anche dei progetti che avevamo insieme con lui e con la Fondazione Gramsci si sono allentati affinché io potessi chiudere questo lavoro. Diciamo che questa domanda che fa Francesco sollecita una piccola riflessione su quanto di disponibile c'era già elaborato su questo argomento. Quello che c'era di elaborato su questo argomento era abbastanza frammentario, per cui anche rimettere insieme cose che di prima impressione potrebbero sembrare abbastanza trattate, in realtà non è stato così veloce, non è stato così semplice. Allora io procederò in quello che dico in modo disordinato come sempre capita all'autore nel momento della presentazione del proprio libro, quindi insomma prendo un po' di qua e un po' di là le cose, le sollecitazioni che sono venite. Allora innanzitutto partiamo da un'affermazione di Franco a proposito del lago d'Aral e l'ecocidio che rappresenta il lago d'Aral. Il lago d'Aral non c'è in questo libro perché il lago d'Aral è stato distrutto non per una ragione energetica, ma perché tutta quell'acqua la si è utilizzata per la coltivazione di cotone che ha voluto l'Unione Sovietica a partire dagli anni 50. anni 50. Però il lago d'Aral è un esempio, diciamo così, di storia dell'ambiente, di storia economica tra i più calzanti rispetto a scelte che sono state effettuate errate. Il lago d'Aral oggi non esiste più, è soltanto una pozza salata che ha lasciato una distesa di sale che ha reso non più coltivabili tutti i terreni intorno, ha portato anche problemi oftalmici alla popolazione dei tintorni. Quindi un vero e grande disastro non soltanto per l'assenza di quell'acqua, ma perché ha modificato tutto, la sua assenza ha modificato tutto l'ecosistema intorno. Allora, questa questione che Franco ha voluto citare è significativa perché ci porta subito a dire che tutti i modelli di sviluppo che ci sono stati, se vogliamo andare per, diciamo, procedendo con semplicità, il modello capitalistico e il modello invece sperimentato dai paesi dell'est, da questo punto di vista, dal punto di vista della distruzione delle risorse naturali, pari sono stati. Sono stati modelli industrialisti che non hanno preso in considerazione il ruolo della natura, delle risorse naturali e della biodiversità. Abbiamo citato il caso del lago Dharal, ma possiamo fare degli esempi analoghi di disastri che sono avvenuti negli Stati Uniti. Il lago Colorado, le cui acque sono super sfruttate per le coltivazioni, l'Ugalala Aquifer, che è un acquifero sotterraneo. Di questi esempi sono, insomma, questi esempi sono presenti a diverse latitudini del mondo. Poi abbiamo citato la Cina, la Cina stiamo vedendo, insomma, i problemi che ha oggi di inquinamento da carbone, ma ricordiamo anche i problemi che ha con le tempeste di sabbia che si abbattono su Pechino, perché sono state abbattute nel tempo le foreste e ora hanno tentato una riforestazione, una sorta di muro con cui difendersi dalle tempeste di sabbia che arrivano dal nord. Insomma, tutto questo per dire, tutto questo ci porta a dire che appunto non ci sono stati modelli di sviluppo finora che hanno saputo tutelare il grande patrimonio che rappresenta la Terra con la sua natura e modelli di sviluppo che nel tutelare questo patrimonio di risorse abbiano saputo sfruttare al meglio le risorse energetiche. Allora Franco poi mi diceva, mi sollecitava alla questione della periodizzazione, io nell'introduzione faccio una lunga dissertazione sulla questione della periodizzazione, perché noi siamo abituati alle periodizzazioni della storia che sono soprattutto periodizzazioni della storia politica e queste non possono aderire le periodizzazioni della storia dell'ambiente che sono diverse, hanno altre cesure. Allora anche per quanto riguarda la storia dell'energia, difficilmente queste periodizzazioni possono aderire con quelle della storia dell'energia. Io nell'introduzione mi chiedo, mi interrogo quali possono essere, perché sia evidente che c'è stata una transizione energetica con l'arrivo del carbone e delle fonti fossili e che quella è una grande cesura perché ha significato la fine dell'utilizzo delle fonti energetiche naturali, legno, acqua, vento e l'impiego di fonti più inquinanti, più difficile è definire delle cesure epocali per il seguito. Allora io per il Novecento dico che probabilmente possiamo mettere l'inizio del Novecento energetico con la scoperta dell'effetto fotovoltaico all'inizio del secolo e però da questo punto di vista siamo forse di fronte a un secolo lungo più che breve perché non sapremmo dove collocare la sua fine, la fine di questa fase e io insomma mi chiedo se la fine di questa fase non possa essere collocata forse in Fukushima perché Fukushima ci ha mostrato come per quanto noi prendiamo tutte le misure cautelari, per quanto si progettino bene delle opere ingegneristiche, poi può avvenire qualche cosa che è indominabile dalla tecnologia umana e nel caso di Fukushima è stata un'onda più elevata, più alta di quello che era stato previsto e quindi insomma quanto sia possibile per l'uomo ritrovarsi di fronte a elementi che non riesce a dominare con le sue capacità tecnologiche. Quindi insomma le periodizzazioni, questo discorso sulla periodizzazione è un discorso che forse rimane aperto. Allora comprendere il passato per indirizzare il futuro, diceva Franco questo intento. Allora vediamo un po' che possiamo dire riflessioni che ci vengono dalla storia all'attualità. Il cambiamento climatico veniva citato prima da Edoardo Zanchini ed è ormai ovviamente chiaro a tutti quanti che l'emergenza del cambiamento climatico ha messo l'umanità di fronte a un bivio, salvarsi passando ad altre fonti energetiche che non compromettano il pianeta e passando ad un altro modello di sviluppo che possa arrestare la distruzione del pianeta oppure insomma rischiare di arrivare alla fine dell'umanità. quanto alla terra, la terra potrà continuare ad esistere anche senza l'uomo perché a miliardi di anni ha visto già altre estinzioni. Allora transizione energetica oggi è evidente che sono sollecitata per forza di cose a dire qualcosa in proposito perché questo è il grande tema. noi adesso con questo nuovo governo abbiamo anche il Ministero della Transizione Ecologica con una denominazione presa dagli esempi che ci sono già stati in altri paesi. Allora la transizione energetica è possibile o non è possibile? Allora io penso che siamo d'accordo tutti quanti che le condizioni tecnologiche perché si possa ottenere la transizione energetica le fonti rinnovabili ci sono negli ultimi anni è poi anche cresciuta la quantità di elettricità da rinnovabili eolico e fotovoltaico è anche cresciuta molto molto velocemente insomma le statistiche ce lo dicono. Penso che possiamo convenire però anche sul fatto che ciò che manca sono le condizioni politiche condizioni politiche interni ai paesi e condizioni politiche internazionali ossia manca una vera volontà perché è difficile mettere in discussione quei poteri consolidati da oltre un secolo e quei poteri consolidati intorno al possesso delle fonti energetiche alla loro gestione e a una società che è basata su questa gestione di fonti energetiche su queste fonti energetiche. E allora voglio fare tre considerazioni a proposito di dalla storia all'attualità. Allora la prima considerazione guardando ad archi temporali lunghi noi possiamo dedurre che l'utilizzo di tutte le fonti possibili non è una cosa da cui possiamo prescindere cioè noi non possiamo pensare di avere una sola fonte energetica che possa essere per noi salvifica e questo ce lo mostrano appunto gli archi temporali lunghi della storia sempre il mix energetico è stato presente e se noi ci volgiamo a vedere l'ottocento a guardare l'ottocento che è stato in particolare la seconda metà dell'ottocento un periodo di rivoluzione energetica lo è stato perché tante sono state le fonti energetiche utilizzate non soltanto quelle antiche acqua e legno ma le fossili in uso da alcuni anni e poi il gas manifatturato che proveniva dal carbone e poi si è arrivati all'elettricità e poi su tutto questo si sono innestate le ricerche nella tecnologia quindi è il mix energetico che ha fatto grande quel cinquantennio quella seconda metà dell'ottocento e a questo proposito della necessità di un mix energetico la seconda notazione che va fatta è che è la storia del nucleare civile che ce lo mostra perché il nucleare ai suoi primordi l'impiego dell'energia nucleare per generare l'elettricità ai suoi primordi suscitò grandissimi entusiasmi fu vista come la soluzione definitiva alle necessità energetiche e fu vista anche con fascinazione scientifica però poi insomma dopo alcuni decenni si comprese che era una via ben più difficoltosa e ben più complicata e allora quindi anche per il nostro presente proiettato nel futuro non è possibile pensare a una transizione energetica che non abbia come base fondamentale l'idea del mix energetico e inoltre che non si tenga conto che ogni zona del mondo ha le sue caratteristiche le sue caratteristiche geografiche le sue caratteristiche geologiche e che quindi ogni zona del mondo ha le sue caratteristiche anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle energie insomma la filiera corta dell'energia deve sempre essere tenuta presente la seconda considerazione che voglio fare a proposito di lezioni del passato nel guardare al futuro riflessioni dalla storia all'attualità è che noi purtroppo non possiamo pensare che la transizione energetica possa avvenire con una cesura netta con una cesura repentina potrà avvenire soltanto per tappe successive è bene che siamo realistici è bene non non farsi illusioni questo significa che le fonti fossili carbone, petrolio e gas naturale continueremo ancora ad utilizzarli ma è evidente che a fianco a questo utilizzo ci troverà essere un un impegno sempre più significativo nell'impiego dell'eolico e del e del fotovoltaico la terza considerazione che voglio fare è la responsabilità di tutto ciò la responsabilità di tutto ciò che dipende da quei soggetti che dicevo prima hanno il potere politico e il potere economico che quindi conducono le scelte e dunque governi stati petroliferi grandi aziende grandi gruppi industriali di diversa natura e credo che sia bene sottolineare che è una grande opera di distrazione spostare l'attenzione sul ruolo che possono avere i cittadini sulla responsabilità che possono avere i cittadini cioè spegnere la luce non lasciare stand by gli strumenti utilizzare meno acqua quando ci si lava i denti sì tutto questo è vero ma non è non è la questione a monte dell'operato dei cittadini sono i grandi soggetti che determinano le politiche che devono determinare le politiche le politiche giuste ora un po' di cose un po' di cose un po' di cose sparse un po' di cose sparse mie un po' di cose sparse di sollecitazione allora c'è una questione che merita di essere nominata perché nel libro non ci si poteva soffermare così così a fondo e cioè il ruolo di scienziati inventori scopritori ovviamente nel libro ci sono tutti tutti questi nomi queste personalità e viene loro riconosciuto il giusto ruolo però nel libro ovviamente non c'era spazio di commento per l'abnegazione della maggior parte di di queste di queste figure è notissimo il caso di Marie Curie che morì a causa delle radiazioni che il suo organismo ha subito per nelle sperimentazioni insomma che lei ha svolto nel suo lavoro ma ci sono anche altri casi che possiamo citare tra Evitik costruttore di locomotive sembra che si sia morto in in povertà poi ci sono anche alcuni casi diciamo divertenti divertenti visti con gli occhi di oggi Blit uno dei due inventori delle paleoliche era riuscito a produrre tanta energia elettrica nel giardino di casa sua la voleva donare al suo villaggio e però il villaggio non l'ha voluta perché lo considerava un personaggio strano e tra tutti questi esempi insomma che possiamo fare di vita di scienziati di inventori di scopritori a me poi sembra che spicchi e che sia particolarmente divertente vista con gli occhi di oggi la vicenda dei fisici che durante la seconda guerra mondiale si raccolsero negli Stati Uniti per studiare la possibilità di arrivare all'arma all'arma nucleare grandi menti molti molti premi Nobel eppure non riuscivano a trovare il modo di farsi introdurre alla Casa Bianca scelsero come loro portavoce Enrico Fermi che era il più fresco di Nobel eppure insomma per mesi per un sacco di tempo niente non riuscirono a trovare una strada c'è un episodio molto divertente in proposito a un certo punto incontrano mi sembra un generale o mi ricordo se è un ammiraglio di Marina pensano che questa possa essere la strada giusta possa essere la loro la loro svolta eppure in anticamera Fermi il grande Nobel in quel momento conosciuto da tutti si sente annunciare dal soldatino al generale con le parole there is a spaghetti out of the door c'è uno spaghetti fuori dalla porta e insomma quindi scienziati inventori scopritori sono grandi protagonisti grandi presenze nella storia dell'energia non solo per le scoperte per le loro creazioni ma molti di loro anche con con le loro vite insomma altri protagonisti nella storia del novecento energetico protagonisti inattesi sono le popolazioni emerge l'importanza delle forme di auto organizzazione dei cittadini dalla popolazione che dissente che protesta che si ribella il mondo ha saputo ve lo dico come elenco la pericolosità delle sperimentazioni del nucleare sul proprio territorio la pericolosità che poteva rappresentare la centrale nucleare questo a partire dagli anni cinquanta a partire dagli Stati Uniti sono state le popolazioni a sollevare questi dubbi il movimento ambientalista il movimento antinuclearista è venuto dopo poi ancora la pericolosità delle grandi dighe per il disastro che le grandi dighe apportano al fiume su cui sono poste e all'ecosistema che si trova intorno intorno ai fiumi a farlo capire al mondo all'inizio degli anni novanta è stato il movimento di contadini e di cittadini contro il grande progetto Narmada in India e l'ha talmente fatto capire che la banca la banca mondiale ha ritirato i suoi finanziamenti a questo progetto e ancora sono i cittadini con la loro autoorganizzazione che hanno fatto comprendere la pericolosità in moltissimi luoghi del fracking il fracking è la la modalità con con cui una delle modalità con cui si può estrarre il il petrolio si inietta si pompa in pressione acqua con alcune sostanze chimiche nel sottosuolo per creare ulteriori fratturazioni e da queste fratturazioni il petrolio poi può arrivare ai pozzi insomma sono stati i cittadini americani a metterci di fronte alla pericolosità di questa di questa tecnica quindi insomma grandi protagonisti della storia dell'energia del novecento anche i cittadini e le popolazioni i cittadini come presidio di osservazione e di democrazia poi ancora procedo disordinatamente perché l'autore come dicevo prima alla presentazione del suo libro non può che far così la parola disastri è stata utilizzata da Franco viene utilizzata nel libro è stata utilizzata anche da Edoardo allora l'arco temporale che è stato più segnato da incidenti barra disastri dell'energia e dall'inquinamento è stato ovviamente l'ultimo cinquantennio a partire dagli anni settanta in questa durata breve perché è una durata storica brevissima l'inquinamento da energie è stato causato dalla accresciuta quantità di ciascuna di esse dall'accresciuto sfruttamento di ciascuna di esse e dalla accresciuta movimentazione di ciascuna di esse ed elenchiamo di questi disastri perché insomma così ce li ricordiamo Lexon Baldess nel 1989 poi il il naufragio della Amoco Aven a largo di Genova del 1991 quindi noi italiani siamo stati toccati direttamente da un disastro dell'energia e ancora nei fondali di Genova quando i pescatori gettano le loro reti se queste toccano i fondali portano su dei grumi di greggio che è ancora lì presente nonostante insomma alcune operazioni di pulizia siano state effettuate e poi ancora il grande incidente al di Puotero Horizon nel Golfo del Messico la piattaforma petrolifera nel 2010 ma diciamo anche che questi sono gli sversamenti più grandi in realtà tutta la storia del petrolio è connaturata alla storia del petrolio lo sversamento petrolifero sia in mare che su terreno e nel libro insomma io ho voluto anche mettere una tabella che ci mostra quanti siano stati nel tempo poi il disastro nucleare di Cernob l'incidente di Fukushima ovviamente sono scontati e poi ci sono i disastri meno noti ma altrettanto gravi portati dalle dighe che abbiamo appena nominato e portati anche dall'estrazione del gas la grande diga interrompe il flusso naturale delle acque e interrompe in questo modo tutte tutte le funzioni naturali che l'acqua svolge per l'ecosistema che è nel letto del fiume ma anche per l'ecosistema che è ai lati del corso del corso d'acqua per di più quando si costruiscono queste grandi dighe nella maggior parte dei casi si spostano migliaia e migliaia di persone quindi alla fine si trappa di grandi disastri ecologici e di grandi disastri sociali ed ecologici insieme e queste grandi dighe sono dappertutto nel mondo non sono soltanto i casi noti dell'India dell'armada che ho citato prima della diga delle tre gole in Cina ci sono negli Stati Uniti anche negli Stati Uniti hanno creato grandi problemi noi in Italia non abbiamo dighe di questa di questa dimensione abbiamo una storia la nostra storia energetica che è stata basata sull'idroelettrico però non sono grandi dighe di questa di questa di questa portata circa il gas l'Olanda l'Olanda si è ritrovata ad avere terremoti dovuti nell'area di Groningen che è una area di grande estrazione insomma si è trovata ad avere terremoti causati da questa estrazione fino a un terremoto del 2012 particolarmente significativo che ha portato a compromettere molto tessuto abitativo e quindi le autorità hanno deciso di interrompere lo sfruttamento di questo gas alla data del 2030 questi sono problemi dell'ultimo abbiamo detto degli ultimi decenni però se guardiamo indietro nella storia non è che non ci siano stati dei disastri dell'energia allora innanzitutto l'inquinamento dell'ottocento delle città inglesi dovuto al carbone le città inglesi con i cieli completamente anneriti con con problemi di salute più gravi per gli spazzacamino per il tumore allo scroto ma ricordiamo anche le falene che a causa di questo cambiarono mutarono il colore del il loro colore perché così diventando nere gli fu più facile mimetizzarsi agli occhi dei dagli occhi dei predatori e poi ancora in queste città industriali dell'ottocento era anche il gas manifatturato che comunque veniva tratto dal carbone ad inquinare perché nei fiumi veniva rilasciata una sostanza che si chiamava veniva chiamata blue billy molto inquinante molto pericolosa che era una sostanza che si produceva con la lavorazione per riuscire ad avere il gas manifatturato ma guardando ancora nel passato ancora e ancora più indietro per esempio insomma un altro disastro dell'energia che noi potremmo considerare tale è la tanto discussa dagli storici e su cui gli storici alcuni storici hanno posizioni diverse la crisi del legno del cinquecento quindi una crisi di deforestazione ma sempre a proposito di deforestazione possiamo citare il caso dell'isola di Pasqua di quella civiltà che scomparve perché una volta tagliato tutto il legname quella civiltà non poteva continuare e ancora e ancora su questo sulla deforestazione il caso dei vichinghi che furono costretti ad abbandonare la Groenlandia oltre perché il clima si stava raffreddando perché ormai avevano disboscato tutta la Groenlandia e non avevano più il legno con cui riscaldarsi e il legno per costruire le abitazioni per costruire le navi e le suppellettili quindi i sassi dell'energia soprattutto negli ultimi decenni è ovvio però se guardiamo indietro nella storia i sassi dell'energia ci sono stati anche precedentemente sempre parlando in modo disordinato e sparso voglio diciamo condurre l'attenzione sulla relazione tra energia e settore bellico perché se pensiamo a questo la nostra mente va direttamente ovviamente al nucleare perché l'energia nucleare fu scoperta per lo scopo bellico e soltanto dopo diversi anni fu immaginata anche per la produzione di centrali elettriche per la produzione di energia elettrica nelle centrali la prima produzione di elettricità con il nucleare è del 1954 ma il fotovoltaico sembra incredibile noi oggi la consideriamo una così bella energia una così bella energia per il futuro rinnovabile ma noi non avremmo il fotovoltaico a questo livello tecnologico di oggi se non vi fosse stata la guerra fredda con la sua conquista dello spazio perché questo portò gli Stati Uniti ad incorporare i studi lo sforzo negli studi su questa tecnologia all'interno del programma spaziale perché doveva servire si doveva trovare una fonte energetica per i tanti satelliti che venivano lanciati nello spazio e le fonti energetiche che si avevano a disposizione non funzionavano non funzionavano molto precedendo sempre in modo disordinato l'Italia l'abbiamo ho citato non poco io adesso l'hanno citata quasi per niente i miei due presentatori però è interessante fissare l'attenzione sul ruolo dell'Italia nella storia dell'energia per tutto l'arco per tutto l'arco lunghissimo arco temporale allora per quanto riguarda in realtà è più interessante per quanto riguarda un arco temporale non lunghissimo un arco temporale diciamo dall'ottocento fino ad oggi perché noi siamo portati saremmo portati a pensare più a un ruolo centrale nella storia complessiva di paesi come l'Inghilterra di paesi come gli Stati Uniti che ovviamente lo hanno avuto ma l'Italia è comunque molto presente molto presente con i suoi scienziati pensiamo Alessandro Volta Meucci Barsanti e Matteucci Enrico Fermi che abbiamo appena nominato l'Italia è anche presente nella storia dell'energia perché è stato il primo paese europeo a rendersi conto di quanto poteva essere importante lo sfruttamento del gas naturale e questo avvenne negli anni 50 e a proposito di questo ricordiamo Enrico Mattei l'Italia è stato il paese di Enrico Mattei una personalità straordinaria una personalità che ha saputo stringere accordi in contrasto con la volontà degli americani che dominavano il mercato del petrolio tanto per fare un esempio ricordiamo gli accordi stretti con l'Iran e poi ricordiamo anche che fu proprio Enrico Mattei a dare la definizione di sette sorelle per le major petrolifere e ancora l'Italia nella storia dell'energia ricordiamo che negli anni 60 l'Italia è stata il terzo paese al mondo per produzione di energia elettrica dal nucleare dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna la Francia che stava preparando tanti reattori non era ancora entrata a pieno titolo nella graduatoria e l'Italia era al terzo posto perché aveva puntato moltissimo su questa tecnologia erano anni in cui non si avevano dubbi sulla pericolosità che potevano rappresentare le centrali le centrali nucleari il nucleare come dicevo prima era visto come una soluzione definitiva al bisogno di energia dell'umanità e l'Italia appunto era collocata con con questa posizione al terzo posto nella graduatoria mondiale e ancora l'Italia nella storia dell'energia proprio rispetto al nucleare la contestazione al nucleare che è avvenuta in Italia una delle più assidue una delle più combattive dette queste cose dette queste cose farò anche diciamo così una cosa insolita la presentazione del libro di un autore e cioè darò indicazioni di lettura le parti che a mio avviso sono più interessanti della storia dell'energia di questa storia di così lungo periodo della storia dell'energia allora ovviamente la parte che è titolata scenari energetici di inizio millennio perché è la parte che più ci riguarda che ci racconta l'oggi quello che sta quello che sta avvenendo e che ci mostra anche la nostra estrema capacità tecnologica il fracking l'abbiamo nominato prima ma insomma ci sono anche altre cose molto poco note al grande pubblico che sono di grande di grande di grande elaborata tecnologia pensate che noi siamo in grado di far maturare la sostanza primigenia del del petrolio il cherogene di tirarlo fuori e di farlo maturare a petrolio pensate che siamo in grado ma per fortuna non lo facciamo di estrarre il metano dagli acciai dei poli dopo diciamo questa parte relativa all'attualità direi che nei miei consigli di lettura leggerei come seconda parte proprio l'introduzione perché nell'introduzione ci sono le riflessioni che che sostengono l'impianto della ricostruzione storica che io ho scelto di fare che ho scelto di fare in questo modo nel modo in cui in cui l'ho proposta poi ovviamente il nucleare perché il nucleare è una fonte energetica che è stata molto 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 dibattuta molto controversa quindi insomma è facile immaginare che la parte sul nucleare risulta di grande interesse a proposito di fonte molto controversa insomma si ricostruisce anche la contestazione a questa fonte non solo la contestazione la contestazione italiana e infine il petrolio nel novecento il petrolio nel novecento cioè noi sappiamo diciamo delle nostre conoscenze generali di cultura generali sappiamo tante cose sulla storia del petrolio però se li andiamo a rimettere insieme veramente ci si si delucida davanti agli occhi quello che avviene nella politica internazionale e le ragioni della nostra politica internazionale attuale perché la storia del petrolio è assolutamente una storia di conquista di territori e di un ruolo molto definito di alcuni paesi d'Inghilterra innanzitutto che ha scelto per quei territori del Medio Oriente delle modalità di formazione di costituzione in stati che ha fatto sì poi che questi stati nel tempo non sempre siano stati degli stati democratici e tuttora insomma è così Franco prima diceva storia del lavoro ecco procedo disordinatamente e ora viene la questione della storia del lavoro la storia del lavoro è vero in questa storia dell'energia c'è tantissima storia del lavoro e non sono soltanto gli scienziati gli inventori prima nominati ma pensate a tutte le figure più umili le figure operaie i minatori che tanto hanno dato alla storia dell'energia in termini di vite umane è descritta nel libro che cos'era la miniera nell'ottocento la pericolosità della miniera e purtroppo quella pericolosità di quelle miniere ancora oggi in alcune miniere della Cina si ripropone poi noi italiani insomma abbiamo nella nostra storia il disastro di Marcinelle e quindi e quindi e quindi questo c'è molto evidente ma non ci sono soltanto i lavoratori delle delle miniere ci sono tante altre figure insomma di tecnici che che nell'arco del tempo nell'arco del tempo hanno fatto parte e fanno ancora parte della della storia dell'energia e e comunque a proposito dei dei minatori io ho voluto dare nel libro uno spazio anche alla fine del carbone in Inghilterra e alle lotte del movimento operaio dei minatori inglesi nel periodo tacceriano perché mi sembrava una mi sembrava la chiusura più appropriata nel descrivere la fine del carbone in Inghilterra poi certo va detto che l'Inghilterra chiuse quella sua lunghissima fase di estrazione del carbone perché aveva altre energie perché aveva diversi reattori nucleari e perché aveva appena scoperto le grandi riserve del petrolio del mare del nord le sue grandi riserve nel mare del nord un petrolio tra l'altro molto pregiato dal punto di vista della qualità poi dopo l'Inghilterra dopo poco in realtà abbandonò anche il nucleare perché è troppo costoso troppo costoso anche per le finanze tacceriane quindi storia del lavoro che altro dire di sollecitazioni che mi sono che sono venute allora Francesco diceva all'inizio di Marx la cultura marxista la natura ovviamente io riconosco in queste notazioni con cui ha voluto aprire Francesco un dialogo tra me e lui anche a proposito della storia del partito comunista Francesco prima ha citato anche il convegno che il Gramsci organizzò nel 1977 a proposito delle energie in tutt'altra fase della storia del paese italiano in tutt'altra fase della storia dell'energia in tutt'altra fase anche della storia dell'istituto è evidente che l'interesse per l'ambiente le tematiche ambientali erano fuori dalla storia del del marxismo perché non poteva essere altrimenti la cultura ambientalista nasce al di fuori delle culture politiche e delle organizzazioni partitiche precedenti e nasce a partire dagli anni settanta poi bisogna anche dire che il marxismo e il marxismo italiano all'inizio degli anni settanta ha cercato di farci conti con questa cultura con la cultura ambientalista e proprio il PC insomma organizzò un convegno nel 1971 dal titolo uomo natura e uomo natura e ambiente e quel convegno è interessante vedere il grande sforzo teorico che viene compiuto perché una parte di quel convegno è proprio dedicata fu proprio dedicata alla teoria si nota un grandissimo sforzo da parte di alcuni filosofi di alcuni politici un grande sforzo però tale rimane perché poi insomma la natura e la contraddizione ambientale comunque non si riesce ad infilare organicamente all'interno della teoria e della cultura marxista neanche negli anni settanta e come dire si notano delle generose delle generosissime forzature dico generosissime perché sottolineano l'intento nel voler l'intenzione la volontà nel volere dialogare nel volere rapportarsi anche alla alla cultura ambientalista e direi che per ora ho finito le mie notazioni le mie considerazioni disordinate io non so se abbiamo delle domande che ci vengono dal pubblico che